La Toscana resta in zona di rischio covid arancione per un'altra settimana, ma da lunedì 22 marzo aumentano le zone rosse localizzate. In altre località invece i sindaci emaneranno provvedimenti di restrizione autonomi, come la chiusura delle scuole. Lo ha annunciato il presidente della regione Eugenio Gianni dopo un lungo confronto con i primi cittadini dei territori interessati. Si tratta di tre conferme, le tre province di Pistoia, di Prato e di Arezzo. Si tratta di un territorio che si amplia là nel medio Valdarno, esattamente l'Empolese Valdelsa con il comprensorio del cuoio, ovvero i comuni del circondario storico dell'Empolese Valdelsa unitamente ai quattro comuni in provincia di Pisa che sono nella stessa area sociosanitaria di distretto, Samignato e Santa Croce e poi naturalmente Montopoli e Castelfranco di sotto. Poi vi è la Versilia, i sette comuni della Versilia, da Massarosa a Seravezza a Viareggio a Forte dei Marmi a Camaiore a Stazema e poi nell'area del Grossetano, New Entry perché sono elevati i contagi in questi giorni, è il comune di Grosseto con altri comuni che in zona rossa vanno, ovvero il comune di Scarlino, sulla Miata, Castel del Piano e Arcidos. Restrizioni localizzate a livello comunale riguarderanno Pontedera, Calcinaia, Santa Maria Monte, Rosignano, Castellina Marittima, Santa Luce. Il presidente Gianni ha sottolineato che comunque il trend è positivo. La Toscana ha superato il mezzo milione di cittadini vaccinati contro il Covid e dopo molte settimane ha finalmente registrato un calo dei contagiati ricoverati in ospedale.